Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi abbiamo il piacere di presentare un bellissimo evento che si terrà all'Università Statale di Milano e in alcuni luoghi della città dal titolo Il Medioevo di Unimi, un evento in due giornate, sabato 18 e domenica 19 marzo 2024, dedicato al Medioevo e alla Milano Medievale. Il primo giorno in università, il secondo in alcuni dei luoghi più importanti della storia della cultura cittadina. I docenti della Statale proporranno conferenze, rappresentazioni teatrali, letture dal vivo, giochi, video, podcast, visite guidate, mostre, simulazioni di scene di vita medievale, 40 attività per scoprire un Medioevo che non ti aspetti. Quindi una cosa davvero interessante e io lascio la parola alla colpevole, cioè a colei che ha ideato questa grande iniziativa che è Guglielmetti. Quindi le do subito la parola e così ci può raccontare meglio di cosa si tratta. A lei. Grazie, molte grazie. Innanzitutto mi sembra giusto spiegare come è nata questa idea. Noi in Statale siamo in tanti a occuparci di Medioevo, veramente tanti e direi anche con ottimi risultati, se posso dirlo, dal punto di vista delle scoperte che in tante discipline diverse si continuano a fare. Il bello della ricerca sul Medioevo è che non si esaurisce mai, che studiarlo comporta sempre cambiare prospettiva su qualcosa, scoprire un fatto nuovo, un testo nuovo e in tutto questo da tanto tempo ci chiedevamo come metterlo un po' in rete, in sinergia tra tutti noi, storici, storici della letteratura, dell'arte, della lingua, della musica, della filosofia, appunto tante discipline diverse che non sempre riescono a comunicare e a un certo punto abbiamo pensato che forse il modo migliore per attivare questa collaborazione era comunicare quello che noi facciamo, perché tutta la nostra ricerca, tutto quello che di nuovo in tanti scopriamo sul Medioevo diventa veramente un patrimonio comune se riusciamo a trasmetterlo, a farlo uscire anche puramente dal fatto di avere pubblicato dei libri, degli articoli, a trasmetterlo innanzitutto ai nostri studenti perché il cuore dell'università è anche questo rapporto tra la ricerca che noi facciamo e il fatto di trasfonderla immediatamente nelle nostre lezioni, aggiornare in diretta gli studenti ma anche possibilmente fuori perché siamo in una città molto grande, molto vivace, in una regione grande vivace dove tante persone possono avere interesse a scoprire meglio il Medioevo e perciò abbiamo pensato creiamo un grande evento nel quale possiamo presentare tutte le nostre diverse prospettive di lettura, di scoperta del Medioevo e condividerle con un pubblico e questo è possibile, è possibile su questa scala proprio perché noi stessi siamo molti come studiosi ma abbiamo anche un'altra risorsa meravigliosa che sono i nostri stessi studenti, i nostri stessi allievi che fin da subito si sono veramente messi a disposizione per partecipare anche loro a questo progetto e non solo gli studenti attuali, anche ex studenti che magari adesso fanno altro oppure continuano nella ricerca ma anche in altri luoghi, in altre sedi eppure sono tornati, sono tornati a lavorare insieme, creando un'equip che conta più di un centinaio di persone e che ci permette proprio di dare vita a tanti eventi in contemporaneo, in parallelo e anche con tante modalità diverse perché poi tante persone e di diverse generazioni sono anche capaci di portare molta più creatività nelle idee, nei modi, presentare i contenuti. Per cui questo è un po' il modo come il progetto è nato e con l'idea che ricordava anche prima questo nostro slogan del Medioevo che non ti aspetti, facciamo scoprire alle persone quello che del Medioevo ancora non sanno, che non pensano di collegare al Medioevo, anche se già un po' lo conoscono, lo hanno, ma c'è di più e vogliamo cercare di raccontarlo su tantissimi aspetti della cultura, della vita quotidiana, anche del Medioevo e non solo del Medioevo come grande contenitore che tocca l'intera Europa, ma anche di un Medioevo più specifico che è quello della città di Milano. Ma su questo magari lascio la parola a Beatrice che anche in quanto storica può meglio di me parlare di questo aspetto. Grazie, grazie anche dell'ospitalità tra l'altro che ci offre Maurizio e Italia Medievale. Speriamo appunto che il tuo pubblico venga ad assistere a queste due giornate, 18 e 19 maggio, gli eventi sono tutti gratuiti, sono alcuni a prenotazione, alcuni sono esauriti, per cui bisogna apprezzarsi per gli eventi che non sono ancora esauriti perché magari si svolgono in aule molto ampie, per cui per fortuna c'è una capacità di accoglienza maggiore, ma li invitiamo a iscriversi, a segnalarci la loro partecipazione e il loro entusiasmo, che è quello che Rossana ha purtroppo trasmesso a tutti noi e per cui abbiamo aderito all'inizio con un grande entusiasmo e adesso siamo entusiasti lo stesso, ma forse non vediamo l'ora di celebrare queste due giornate e di vedere in realtà tutte queste tante modalità di rappresentare, di raccontare il Medioevo, in che cosa poi consisteranno e come si configureranno. In effetti diceva giustamente Rossana della contestualizzazione, cioè del Medioevo a Milano, il Medioevo a Milano è abbastanza sconosciuto, no? Raramente Milano è nota nel mondo, in Italia, ma nel mondo anche come città medievale, sono altre ovviamente le città medievali e lo capiamo bene perché hanno delle vestigia medievali che sono immediatamente percepibili. È proprio per questo, ed è il bello di questa iniziativa, proprio l'idea di voler far scoprire la Milano medievale. Cioè la Milano del design e della moda la conosciamo ormai benissimo, anche grazie ai tanti eventi, alcuni che si svolgono presso la nostra università e quindi paradossalmente la nostra università è diventata la casa del design, no? E meno invece la casa del Medioevo quando è una casa medievale, no? In realtà è proprio un luogo medievale. Milano poi è stata bombardata, la nostra università, come una buonissima parte della nostra città, però le vestigia medievali ci sono, le possiamo ammirare, le possiamo raccontare benissimo perché una parte di questi eventi si svolge per l'appunto nella nostra sede, ma in realtà porteremo le nostre visitatrici e i nostri visitatori in giro per altri luoghi medievali di Milano, forse meno noti e meno visitati, che sono stati aperti e che saranno aperti in quei due giorni, 18 e 19 maggio, ripeto, grazie alla collaborazione di uno dei nostri partner, che è il Touring Club, che ci consentirà di tenere appunto aperti e visitabili alcuni luoghi medievali, non cito soltanto San Giovanni in Conca, perché è forse uno dei meno conosciuti ed è proprio dietro la nostra università. E quindi avrete modo, e il pubblico avrà modo, di visitare alcuni ambienti che non sono, raramente sono aperti e sono visitabili e sono riconosciuti in quanto medievali. Magari posso citare appunto gli altri partner che ci aiutano, che ci sostengono in questa nostra iniziativa, che si svolge per l'appunto il 18 prevalentemente, ma non esclusivamente se non sbaglio, nella nostra università, perché in realtà ci sono altre sedi delle nostre attività, ricordo la Biblioteca Ambrosiana, che è uno dei nostri partner, il Castello Sforzesco, che sì, certo, il nome è molto medievale, ma in realtà sappiamo bene che il suo aspetto non è propriamente medievale, anche se lo ricostruisce degnamente, così, con una maggiore monumentalità rispetto a quello che era il suo aspetto medievale. Saranno, tra l'altro c'è un bellissimo percorso di visita a un affresco invece medievale, che sono le storie di Griselda, ecco, che sono diciamo uno dei simboli, Griselda è uno dei simboli purtroppo delle donne medievali, ma per sapere come mai purtroppo bisognerebbe leggere l'ultima novella del Decamerone, quindi lasciamo al tuo pubblico la lettura, e quindi anche il Castello Sforzesco sarà una delle nostre sedi, il Musa, cioè il Museo Universitario delle Scienze Antropologiche Forensi, sarà aperto il sabato 18 maggio e ospiterà alcune attività, così come l'archivio dell'ospedale maggiore, che ha in realtà sede nella nostra università, ma è un ente, diciamo così, separato, non fisicamente, ma separato e anche lì si svolgeranno molte attività e sarà possibile visitare questo ambiente che è molto raro, che sia aperto al pubblico, quindi è una circostanza felice questa, che ha fatto sì che ci siamo tutti uniti, pur abitando e lavorando nello stesso luogo, difficilmente ci uniamo, come ricordava prima Rossana, e quindi ci sono tante attività, citavo Griselda prima, per poter dire che ci sono sezioni di attività dedicate a temi diversi, e interpretate, attività interpretate con modalità differenti, per cui ci sarà una sezione sulle donne, ci sarà però anche una sezione sui bestiari, ci sarà una sezione importante su Dante, quindi tanti aspetti del Medioevo che noi ci aspettiamo, ma che il pubblico forse non si aspetta e di cui magari Rossana ci vuole raccontare più nel dettaglio qualche caratteristica. Sì, forse potremmo proprio dare un paio di esempi di come abbiamo pensato anche i collegamenti tematici tra gli eventi, che hanno al loro interno dei fil rouge, dei fili conduttori, ricordavamo adesso la sezione sul mondo di vedere la natura e quindi anche gli animali, una sezione che comprenderà più eventi diversi legata a Dante e alla preistoria di Dante, perché ecco, uno di quegli aspetti, proprio per fare un esempio pratico, che di solito si ignora, è che Dante non è il primo che un giorno ha avuto l'idea di scrivere un viaggio nell'aldilà. È il centesimo che ne ha scritto uno nel Medioevo. Naturalmente ha scritto il più bello di tutti, senza confronto alcuno, ma con alle spalle un millennio di tradizioni di testi dello stesso genere letterario. Ecco, questa è una delle cose che cercheremo di far scoprire al pubblico con diverse attività che raccontano di questo genere precedente, di questi testi che nel corso del Medioevo hanno cominciato pian piano e poi sempre in modo più approfondito ad elineare gli spazi, le scene ricorrenti, un po' un canovaccio di quello che può succedere a un viaggiatore dell'aldilà, quello che incontra, come sono fatti questi regni dell'altro mondo. Tutto un percorso letterario che poi Dante medita, fa proprio e restituisce con qualcosa che è un'invenzione molto nuova, ma basata su una lunga tradizione. Ecco, per scoprirlo e farlo scoprire anche a livelli di difficoltà, di approfondimento diversi, a seconda di come poi il pubblico si sente di affrontare ogni tema su questo noi abbiamo sia conferenze un po' più tradizionali, per esempio sul modo di vedere l'aldilà anche nel mondo arabo-isranico e nel mondo ebraico, ma abbiamo anche dalla parte opposta diciamo del livello di tradizionalismo accademico dei giochi. Su questo tema si può anche giocare a una specie di memory che mette a confronto Dante le visioni, si può venire a giocare a Staifer Mongeone che è invece una specie di incrocio fra un gioco dell'occhio e un trivial a tema inferno dantesco, o si può per esempio approfittare di un percorso che è invece più una sorta di mostra interattiva in cui lo spettatore che passa può leggere autonomamente dei pannelli ma può anche anzi speriamo che lo faccia naturalmente chiedere alle persone che saranno presenti lì esperte del tema di ricevere delle letture, di rispondere a delle domande. Ecco una delle modalità che riproponiamo spesso che ci piace proprio per la sua interazione con il pubblico è questa del proporre dei contenuti che si possono in parte anche attraversare da soli ma per i quali poi noi siamo lì a rispondere a dare qualcosa di più secondo quello che il pubblico stesso ci chiederà. Ecco questo è un esempio di uno dei possibili macro temi poi direi che assolutamente già un pochino Beatrice l'ha fatto ma l'ha ricordato un tema molto importante che anche questo verrà esplorato in modi molto creativi che è quello del femminile su questo lascio la parola all'esperta assolutamente è un po' colpa mia in effetti hai ragione sì ci sarà una sezione dedicata alle donne che in realtà poi attraversa tutto tutte le nostre attività in un modo o nell'altro le attraversa tutte e tra l'altro uno dei partner in questo caso il Museo Archeologico di Milano che è anche questo un luogo che non è tanto noto ai turisti e quindi a maggior ragione ci piace che sia stato coinvolto e che ci offre gli spazi per raccontare appunto anche qui delle donne del Medioevo che non ci aspettiamo che non vi aspettate che il nostro pubblico non si aspetta e lo faremo in tante maniere nel senso che ci sarà un cartone animato che racconta la storia di una donna vissuta a Milano nel nono secolo ci sarà una bella conferenza di intervista però non proprio conferenza ma un dialogo sulle principesse fantasy che hanno però un'origine medievale ci sarà una mostra questa più classica ma è difficile che nella nostra università si realizzino delle mostre per cui anche questo è una novità un nuovo modo di raccontare il Medioevo una mostra di documenti che sono stati scritti da donne medievali naturalmente o che parlano di donne medievali e quindi anche questa è una novità è un'occasione di raccontare il Medioevo in una maniera diversa valorizzando anche il patrimonio medievale che abbiamo presso la nostra università poi appunto vi dicevo ci saranno delle conferenze che però racconteranno delle donne del Medioevo non propriamente stereotipate nel cliché delle donne che ci aspettiamo appunto medievali per cui ci sarà una badessa che ha un comportamento non proprio da badessa ma vedremo non lo voglio spoilerare qui come si dice oggi che in realtà forse non è che si comporti così male come le fonti raccontano vedremo un benefattore che riesce che dirige i suoi denari le sue ricchezze per aiutare delle bambine insomma vedremo delle donne imprenditrici che forse per il Medioevo non è che ce lo si aspetti per cui secondo me chi viene il 18 e il 19 di maggio presso l'università al Castello Sforzesco al Museo Archeologico all'Ambrosiana ne uscirà avendo imparato qualche cosa ma anche essendosi divertito perché il nostro obiettivo è di fare in modo che si possa capire che le professoresse e i professori universitari non sono così noiosi come potrebbe sembrare e che possono raccontare il Medioevo magari in un modo che non ti aspetti beh io direi che c'è anche un sito dedicato a questo evento dove potete trovare tutte le informazioni possibili immaginabili il programma completo quindi io vorrei che lo ricordasse voi sì volentieri il sito è facilmente recuperabile basta digitare qualunque motore di ricerca il Medioevo di Unimi ed è il primo risultato che troverete da questo sito peraltro troverete anche i link per i profili su Instagram e su Facebook che sono attivissimi nel proporre materiali in anteprima materiali che fanno anche capire un po' meglio di che cosa ci occuperemo e questo sito presenta sia il programma completo in ordine cronologico degli eventi sia anche la possibilità di navigarlo scegliendo uno specifico tema che può essere appunto la natura arte sia anche di navigarlo dal punto di vista delle modalità di presentazione messe in scena dal vivo ecco non abbiamo ricordato che ad esempio c'è anche questo tra le nostre modalità di comunicare il nostro lavoro mettere in scena come nel Medioevo veramente si svolgeva ad esempio un dibattito tra filosofi o questo per solo per adulti come si svolgeva un'autopsia quando bisognava indagare su come era stato ucciso qualcuno ecco c'è anche tutto questo e il nostro sito per ogni evento permette di aprire una pagina che ha una descrizione più articolata di ciò di cui si tratta e quando sono eventi a prenotazione da questa pagina è anche indicato come fare a spostarsi sulla app delle prenotazioni che è una app che ha anche un meccanismo di lista d'attesa per cui se proprio quello che vi interessa in cui entrate in quel momento è tutto esaurito comunque insomma non disperate o magari iscrivetevi lo stesso e c'è la possibilità che scorra questa lista per entrare ugualmente insomma ma in realtà moltissime delle nostre attività sono in spazi aperti o in spazi che non richiedono una particolare prenotazione e perciò diciamo che anche arrivando lì il giorno stesso è un po' tutto percorribile e improvvisabile anche volendo però certo invitiamo invece a studiare a studiare un po' questo nostro sito e anche notate il meccanismo della pergamena del visitatore che potrebbe essere interessante perché essendo in un'università noi abbiamo anche a disposizione tantissimi libri sul medioevo sul nostro stesso edificio medievale e questi libri saranno anche dei primi per chi si dimostrerà come si dice nelle parole crociate super solutore ecco super visitatore nel nostro caso ma anche questo lo potete scoprire nel sito e tra l'altro fa parte della sezione donne anche uno spettacolo teatrale che è un po' il clou del tardo pomeriggio del sabato 18 perché alle ore 17 in Aula Magna che in realtà è il nostro teatro il nostro teatro ha un palcoscenico splendido e anche una bella capacità come teatro si isolgerà uno spettacolo comico in realtà in cui vedremo rappresentati Bianca Maria e Francesco Sforza in un modo un po' diverso rispetto a come di solito viene presentata soprattutto Bianca Maria che passa per essere una donna particolarmente pedante mi permetto di dire questo sperando che chi studia Bianca Maria non lo senta ecco però la vedremo in un modo molto diverso una specie di baruffa con suo marito con Francesco Sforza che tra l'altro sono anche i due fondatori dell'ospedale maggiore quindi ecco è uno spettacolo teatrale proprio perfetto per questa sede vedremo anche qualche cosa di un pochino più hard se si può dire così perché ci sarà una visita per impotenza che è però tratta da un documento medievale quindi stiamo ricostruendo in realtà qualche cosa che è veramente accaduto ma che sarà in coda allo spettacolo per cui famiglie bambini ragazzi eccetera eccetera e poi sarà rappresentata in una maniera molto sobria venite ad assistere allo spettacolo perché sarà un momento di condivisione e anche di divertimento perché io ho visto le prove dello spettacolo ed è veramente comico e fa parte anche questo di una rappresentazione inedita delle donne d'età medievale appunto sia Bianca Maria sia questa signora che chiede il divorzio per le ragioni di cui parlavo poc'anzi ben bravissime non vi siete proprio fatte mancare niente io ovviamente non posso che invitare tutti quanti ma proprio tutti tutti non solo i milanesi anche quelli che vengono da fuori anzi forse più quelli che vengono da fuori perché hanno un gusto della scoperta ancora maggiore a venire all'università statale il 18 e il 19 maggio 2024 ad andare sul sito cercando il medioevo di Unimi in modo tale da poter anche decidere il loro programma che è bello impegnativo perché praticamente sono due giorni strapieni di iniziative di ogni genere e quindi io sono molto contento di aver fatto questa presentazione con voi che ne siete le artefici insieme a tutti i vostri colleghi ovviamente e ringrazio tantissimo l'università per avere finalmente fatto qualcosa che esce dalle mura polverose e va a parlare alle persone e a fargli scoprire che il medioevo che noi abbiamo è veramente qualcosa di speciale quindi grazie davvero tantissimo grazie grazie dell'ospitalità e vi aspettiamo tutti vicino Italia Medievale ciao grazie 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 grazie